Buongiorno ciao a tutti ragazzi e bentornati nel canale di GECONIX Svapo Oggi facciamo un liquido di ENJOY Svapo Sempre presentato al VAP Italy L'ARCIC GRAPE UVA E LIME By ENJOY Svapo Fresco Molto fresco ARTIC Quindi potete immaginare come può essere Allora al naso Sa di UVA E LIME Però mi sa anche un po' di Eucalipto Eucalipto Proprio il VIX Quello che vi mettete qua UVA e si sente Eucalipto No è la parte del LIME Probabile Si sente proprio la Profae o Tofu Ma con una coil non con la mesh Perché la mesh ci fa In aspirazione Vi arriva proprio Il gusto dell'UVA L'UVA FRAGOLA E poi Quando buttate fuori il vapore Vi rimane Il fresco del LIME Sinceramente Conoscendo Conoscendo la linea ARTIC Perché ho svapato i predecessori Si quello al mango era buono Pensavo che fossero più ICE Si questo qua non è Ce n'è Molto UVA Molto UVA L'UVA La parte di UVA Non è interamente buona Il LIME non ce lo sento sinceramente È fresco Secondo me Meno Rispetto ad altri Però Io gli do Per il gusto Gli posso dare un 8 Però Per il liquido che è Quindi anche con l'AIA Gli do 7,5 8 Recensione corta Quest'oggi Se volete provarlo Provatelo Diceci qualcosa nei commenti Come al solito Iscrivetevi tutte le cose Seguitici su Instagram Se no siete dei Bastardi Recensiteci su Flavorito.it Perché se no siete dei Bastardi E a questo punto siete già Due volte bastardi Quindi Vi ricordo di firmare La petizione Mi raccomando Perché se no siete dei Bastardi Questi proprio grossi Qua siamo già tre volte E quindi Iscrivetevi al canale Con l'ultima sua parte Di Stefanello Ci vediamo al prossimo video Che non si sa qual è Va bene Ciao 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 Grazie per la visione!